Le istituzioni possono fare molto, quello che stiamo cercando di fare da quando ci siamo insediati e creare un partenariato solido e stabile tra tutti i soggetti che sono deputati a dare sia delle informazioni ma soprattutto anche a verificare sul campo come le scuole quali sono i comportamenti dei ragazzi sostanzialmente. E' chiaro che in questo caso mi sento di dire, essendo un ex allievo salesiano, Don Bosco diceva sempre una cosa ai docenti, amate ciò che amano i giovani per far sì che loro amino ciò che voi insegnate, il ruolo del docente in questa circostanza è fondamentale e le istituzioni devono supportare quello che fanno di buono i docenti. Devo dire la verità, il partenariato tra scuole per questa iniziativa è sicuramente un elemento importante e ci fa ben sperare perché la collaborazione tra istituti scolastici nella città capoluogo può dar vita anche, soprattutto ad attivare delle campagne informative e di sensibilizzazione importanti su temi come questo e non solo. Grazie.